Dio Medusa presenta i grandi colossal per radio, Tritanic, un'enorme saga. Basta con queste saghe, mi sono venuti calmi. Un film che narra di un amore smisurato, intenso, segnato da una tragica fatalità. Accidenti che buio pesto, ehi lassù di Vedetta, ha vissato qualche iceberg? No comandante, per ora vedo soltanto un enorme gelato. Ah, meno male, meno male. Sotto comandante, sono arrivati quei cannocchiali da Southampton? No comandante! Però al compenso ci sono arrivati questi fantastici microscopi dalla Svizzera, per non dire di questo splendido Picasso giunto loro da Malaga, e questi marmi di Carrara, bellissimi, fantastici, utilissimi. Un film che denuncia un'ignobile divisione tra classi. Perché? Perché non è giusto? Io devo stare in terza e poi in prima. Perché? Non è giusto? Perché? 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 Leo, ma perché hai 27 anni e t'hanno già bocciato 20 volte, e se non era per il parificato due anni in uno, stavi ancora in primina? Un film dove si coniugano perfettamente arte ed amore. Ti ririfigi di me? Sì. Allora te la. Ma come? Me ne devo già dare! Ma no, stupida! A pizza di impizzo, che ti faccio un ritratto? Un film con una colonna sonora straordinaria. Sai cosa stavo pensando guardando il mare? Tanto va la gatta a largo che ci lascia lo zampino. Oh, e pensa che quel dire il mare c'è di mezzo l'iceberg. Guarda! Una goccia nel mare. Eh, bravo! Però la prossima volta non controvetto, che schifo! Un film che toccherà le corde più intime del vostro animo. Accenderà il bambino che è in voi, ma spegnerà la vostra intelligenza. Ma soprattutto, risolverà i vostri problemi di stitichezza. Tritanic, presto, su Radio Medusa. Grazie a tutti!